considera che la calce si schiavesce quindi quando è bagnata il colore è molto bufo ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, adesso andiamo su quest'altra. Prendi un altro pennello a P. Questa qua è di un su. Dopo facciamo la prova? Faccio così quello con tutto il pennello a P qua dentro. E questo qua rimetti questo sul colorante perché sennò c'ho paura che cade. Dopo richiediamo bene fino a dove, fino a dove il bianco, fino a dove il bianco. Ok, adesso apri questo che dovrebbe essere l'acqua marina per... Prendi un altro pennello a P. Prendi un altro pennello a P. Prendi un altro pennello a P. Senti, questo vincolo... Prendi un altro pennello a P. 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 Per lo sengito... Prendi un altro pennello a P. Sì. e ok 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 ok